Ciao a tutti, in questo video voglio parlare di come sganciarsi da chi ci fa soffrire in amore. Intanto questo video è per Veronica che mi segue su YouTube. Allora, spesso noi siamo agganciati a chi ci fa soffrire in amore e più soffriamo spesso più siamo agganciati. Questo è un paradosso che si manifesta molto spesso ma comunque si manifesta. Allora dobbiamo imparare a sganciarci. Dobbiamo imparare a sganciarci perché è l'unico modo per gestire la relazione a darmi pari. Perché nel momento in cui c'è un coinvolgimento eccessivo non riusciamo più a gestire, non riusciamo più a connettere, non riusciamo più a vivere una relazione felice fondamentalmente. Soprattutto se dall'altra parte c'è indifferenza. Saluto Alison, buon pomeriggio. Soprattutto se dall'altra parte c'è indifferenza. Perché quando iniziamo a nutrici di indifferenza siamo alla frutta diciamo. Perché è proprio il culmine, il punto di minimo. Però spesso succede che non basta arrivare al punto di minimo in certe situazioni ma perforiamo, sventriamo il terreno e andiamo ancora sotto terra. E questo capita appunto quando siamo agganciati su chi ci dà indifferenza, su chi ci dà rifiuto, su chi ci dà abbandono. Insomma su chi ci fa vivere tutte queste situazioni nefaste, negative per noi. E' importante invece imparare a sganciarci. Direi che imparare a sganciarci è la cosa fondamentale. Quando è che dobbiamo sganciarci? Quando stiamo soffrendo? E allora intanto dobbiamo dare un nome alla sofferenza per amore. Perché spesso questo nome non riusciamo a darlo. Cioè soffriamo per amore ma tendiamo ad autoattribuircene la responsabilità. Nel momento in cui ce ne autoattribuiamo la responsabilità ecco che siamo del gatto come si dice. Perché inizia una lotta, una guerra intestina diciamo così, no? Perché iniziamo a darci delle colpe. Starò, cioè questa persona si sta comportando male nei miei confronti ma magari è colpa mia che, magari è colpa mia, ti seguo Monica ciao, magari è colpa mia perché non sto facendo tutto quello che dovrei fare. Oppure magari è colpa mia perché non sono alla sua altezza, perché sono inadeguato, sono inadeguata. E quindi più facciamo questi ragionamenti più creiamo una lotta interna. Perché poi una parte, la nostra parte logica, vorrebbe sputare in faccia, diciamo così, a chi ci tratta male. Vorrebbe dargli un cazzotto sul naso, come dire. Vorrebbe infilargli un palo, diciamo, oxfordianamente nel retto. Ma invece la parte emotiva si appiccica, si aggancia, si aggancia proprio su queste cose. Quindi l'unica strada per poter giocare a darmi pari la partita è quella di sganciarci. Sganciarci effettivamente che non vuol dire non desiderare più di stare con questa persona, ma perlomeno ad arrivare al punto da dire in modo sereno, tranquillo. Boh, io sto bene comunque con me stesso, sto bene, sono tranquillo. Se questa persona è disponibile nei termini che mi stanno bene, che mi rendono felice, allora, come dire, ne sono più contento perché la mia vita acquisisce, come dire, una luce diversa, acquisisce un significato diverso, fa un piccolo salto quantico, un salto d'orbita. Ma se invece mi aggancio sul fatto che questa persona mi sta somministrando polpette avvelenate e il resto continuo ad essere agganciato, allora saluto a Maria Cristina, Daniela e Ilario. Ciao a tutti. Il salto quantico lo faccio all'incontrario, cioè perdo energia. E come facciamo a sganciarci? Beh, intanto dobbiamo cercare di allineare la nostra sfera emotiva e la nostra sfera logica. È molto utile fare una riflessione però anche da un punto di vista logico, perché, saluto anche Anna, perché quando, diciamo, iniziamo a riflettere da un punto di vista logico e ci pensiamo, allora le cose iniziano a scendere verso il basso, iniziano ad arrivare anche alla sfera emotiva. Allora ti prendi un bel foglio di carta e inizi a riflettere su questa relazione, su queste sofferenze che ti sta somministrando questa persona. E certi, come Sherlock Holmes, tutte le offese che ti ha fatto, tutte le volte che ti ha manifestato indifferenza, in cui tu magari avevi bisogno e ti sei preso un saluto anche a Annabella, e ti sei preso, insomma, tu lo sei preso in quel posto, le volte in cui hai dato e non hai ricevuto nulla in cambio, io, addirittura da Londra, salutiamo Nina, e tutto questo inizia a scriverlo. Devi fare proprio come se facessi un romanzo di questa relazione, ma focalizzato soltanto sulla merda che ti è stata somministrata. Lascia perdere, diciamo, il risotto. Intanto vale una regola fondamentale, che penso tutti possano capire, saluto anche Barbara, che tutti possano capire, se mischi la merda con il risotto diventa merda. Quindi, dire, cioè non è buono, insomma, perché puoi prendere il risotto migliore di questo mondo, quello più buono, profumato, eccetera, ci metti una merda dentro e provi a mangiarla, vedi se ti piace. E quindi, cosa vuol dire? Che non puoi valutare le cose positive se ci sono state fatte delle, tra virgolette, ingiustizie, delle offese alla dignità, dei rifiuti, degli abbandoni, oppure sei stato giudicato inadeguato, sbagliato, comunque preso in giro, preso in giro, tra virgolette, anche se ci fosse un bel risotto, per cui sicuramente Gualtiero dal Brasile, credo, ciao, anche se ci fosse un saluto particolare al Gualtiero, che è un caro amico che credo sia in Brasile, in questo momento almeno. E quindi devi evitare di far sì che, diciamo, ci sia questa commistione, devi separare la lana dalla seta, devi separare la crusca dal grano, quindi, e cosa vuol dire separare la crusca dal grano? Devi andare a vedere e prima fare tu un'analisi, scrivetela a tavolino, come se facessi, come se tu fossi un narratore, un narratore esterno, devi proprio immaginare, come se fossi all'esterno della situazione, è una posizione di percezione nella PNL che si chiama la terza posizione di percezione, che è quella dall'esterno. Questo come fare, diciamo, poi lo spiegherò anche meglio, per il solito spot, venerdì, il 14 ottobre a Torino, al seminario gratuito che terrò presso l'educatore della provvedenza, ora 20.45, ingresso libero e gratuito, però su prenotazione, quindi prenota 333-1511-703. E dicevo, per fare questo lavoro, quindi, che è finalizzato lo sgancio affettivo, devi, per prima cosa, metterti nella terza posizione di percezione, come se tu fossi, che ne so, il regista che guarda la scena di un film. E la scena del film qual è? È la scena del film tua e di quell'altro o di quell'altra che ti sta facendo soffrire. E in questa scena devi lasciar perdere, diciamo, tutte le cose neutre, lasciar perdere tutte le cose positive, perché tanto le cose positive, se ce ne sono né negative, vengono inquinate. È il risotto che poi entra in contatto con la merda, diventa cattivo pure quello. Diventa cattivo perché? Perché se tu stai bene una giornata con una persona, e poi sai che il giorno dopo questo, che ne so, non è più disponibile, o c'ha le cose sue, le patugne sue, altre storie, altre situazioni, non ti considera, anche quella giornata lì, che sarebbe potuto essere una giornata buona, diventa una giornata di merda, fondamentalmente. Per cui, quello che tu devi fare è estragnarti, si può imparare, non è difficile, c'è una tecnica, insomma, comunque si può imparare facilmente. E come se tu fossi un regista, ti metti a scrivere tutta la sceneggiatura, diciamo, come dire, il riassunto, il bignami di questa relazione, evidenziando tutte le cose brutte, negative, che ti hanno fatto soffrire. Le cose negative sono quelle che ti hanno generato sofferenza, ovviamente, indipendentemente dal motivo, tu descrivi bene la situazione, in modo tale che questa cosa qua deve essere chiara dentro di te. Poi, se tu hai a disposizione, come ancoraggio, diciamo, una foto di questa persona, te ne so, la te la scarica dal profilo Facebook, non so se non ce l'hai, oppure, se, beh, la foto è semplicemente per creare un ancoraggio diretto con una persona, altrimenti potresti usare semplicemente l'immaginazione. Però, diciamo che il giorno d'oggi è una foto fatta con il cellulare, non è così difficile aprire, essendoci tutti i social network, dove le nostre foto sono diffuse dappertutto, ti scarichi una foto, te la carichi sul tuo telefono, sul tuo computer, cavolo vuoi, te la stampi, qualcosa, e ti metti lì e, guardando la foto, vai a rileggerti e a ripensare, diciamo così, a tutte le offese alla dignità che ti sono state fatte da questa persona. e lasci che venga fuori la rabbia, lasci che sicuramente è probabile che ti verrà magari da piangere, che ti verrà della rabbia, che ti verrà del rancore, è tutta merda che esce, diciamo così, da te stesso, è tutta schifezza che inizia a toglierti piano piano. E anche perché poi questi pensieri, se non sono, diciamo, tu entri in emotività, fondamentalmente, la cosa fondamentale è che entri in emotività. Entrando in emotività, ogni pensiero, diciamo così, c'è anche Mary che saluto, ogni pensiero diventa un qualcosa che tenderà pure a tecchire nella tua sfera inconscia. E quindi, automaticamente, pensando ai torti che ti sono stati fatti, pensando alle situazioni che ti sono negative, che ti sono state somministrate, a tutte, dire, tutto quello che hai, metti dentro il calderone, diciamo così. Vai in emotività, ti viene fuori rabbia, ti viene fuori rancore, ti viene fuori risentimento, ti viene fuori pianto, ti verrà fuori qualche cosa, ma tu, in quella situazione, inizi il processo di decoinvolgimento. Inizi il processo di decoinvolgimento, almeno per due motivi. Il primo motivo è quello che, diciamo, la parte, intanto la parte emotiva sta somministrando delle emozioni. La parte emotiva ha bisogno di quello, perché se noi ci attacchiamo, perché di fatto poi bisogna riflettere su questo, e concetto che approfondirò anche, il nuovo spot, venerdì 14 ottobre alle 21 a Torino, alle 20.45, per la verità, al Centro Educatorio della Providenza, ingresso libero e gratuito, su prenotazione al 333 15 11 703. Iscrivetevi che i posti stanno, diciamo, non ce ne sono ancora, ma le iscrizioni sono tante. E quindi dicevo, devi, diciamo, almeno per due motivi ti sganci con questo sistema. Il primo motivo è che stai offrendo emozioni alla tua parte emotiva, perché di fatto li sta offrendo, perché è inevitabile che, se tu pensi al tuo dente che ti fa male, sto dente ti farà ancora più male. E in questo caso, dobbiamo far sì che sto dente faccia ancora più male. Cioè, la persona, dobbiamo vederla, diciamo, se è stronza, amplificare la stronzaggine, amplificare quello che, la negatività che ha fatto nei nostri confronti. E quindi, diamo, da un lato emozioni alla nostra parte emotiva, dall'altro che richiamo alla nostra parte logica, perché la nostra parte logica è, beh, cioè, si incazza, no? Quando viene presa a cacci nei testicoli, fondamentalmente, a parte qualcuno che invece adora il, come si chiama, ball buster, però normalmente le persone quando vengono prese a cacci nei testicoli o nelle uvaie nel caso delle donne si incavolano, no? E quindi, lascia che questa, che la parte logica si incavoli ben bene. E comunque, la parte logica magari è una parte minoritaria, sicuramente non è la parte maggioritaria, però comunque ha del potere nella nostra, nella nostra vita. Non è che è un contancavolo, conta anche la parte logica. Quindi, caricati bene alla parte logica. Poi, nella parte logica c'è l'orgoglio, nella parte logica anche l'odio fa parte della parte logica, perché noi non ragioniamo quando siamo innamorati, ma quando odiamo il nostro ragionamento diventa veramente, come dire, preciso. Non sto dicendo che bisogna odiare con la persona, o comunque bisogna farlo soltanto per sganciarci, non per mettere in atto poi delle azioni, perché tanto poi quello non serve a niente, diciamo, perché l'unica vendetta vera è quella di essere felici, fondamentalmente. perché se tu riesci ad essere felice non hai bisogno di vendicarti di nessuno. Nel momento in cui uno decide di vendicarsi in qualche modo è perché in realtà non ha superato il tutto. Quando in un momento in cui tu sei felice te ne fotti di quello che capita all'altra persona, anzi, gli auguri pure che stia bene, che sia felice pure lui. O comunque ti diventa indifferente, puoi vederlo passare davanti e lo saluti come saluteresti diciamo, che ne so, il barbone che incontri sotto casa per dire, non so, o sulla soglia della chiesa. E te ne stai lì tranquillo, diciamo, e quindi questa emotività che viene fuori mentre tu pensi a tutte le cattiverie tra virgolette che ti sono state fatte, le ingiustizie, le offese, va a caricare l'orgoglio della parte emotiva e va, diciamo, a scaricare le emozioni compresse invece compresse nella parte emotiva perché le emozioni fanno male quando sono compresse, non quando sono espresse. Cioè, se una persona mi fa un torto ma io perché la amo subisco questo torto, l'amerò ancora di più. Questo è il meccanismo perverso. È come dire, uno ti tiene uno schiaffo e tu non glielo restituisci e te lo tieni dentro. Questo tenertelo dentro è quello che ti fa male è quello che ti fa soffrire. Non è tanto lo schiaffo che prendi che comunque cioè, beh, sì, ti potrà far male per un secondo e finisce ma lo schiaffo che non restituisci è quello che ti fa male, è quello che ti logora e è quello che ti distrugge. E quindi a fuori di più gli schiaffi senza restituirli diciamo così schiaffi emotivi ovviamente succede che ti coinvolgi di più con questa persona e non riesci a sganciarti. Se invece prendi uno schiaffo e ne tiri due anziché poggere l'altra guancia facciamo esattamente il contrario diciamo pido lo schiaffo e ne restituisco due e a quel punto lì allora io mi sono scaricato non ho più emozione dentro schiaffo sempre emotivo ovviamente perché comunque c'è da tenere presente un fatto che certo che uno ti potrà somministrare l'abbandono ma tieni presente che anche se tu hai un potenziale seppur magari minore dell'altro ma nel momento in cui tu comunque sparisci da quella persona e l'abbandono se lo viverà anche quella persona è inevitabile perché è anche il cane che non è frega un cazzo dell'osso quando quest'osso gli viene tolto gli erode la situazione quindi bisogna imparare diciamo ad abbassare il livello di coinvolgimento per poter poi affrontare la situazione a darmi pare fondamentalmente perché e diventa anche come dire un lavoro fatto su se stessi perché vai a eliminare comunque della merda che sta dentro di te ma quella persona lì di cui quella persona lì è soltanto un riflesso fondamentalmente perché è soltanto un elemento che tu hai su cui tu hai proiettato dei tuoi turbamenti perché se una persona cioè qui non è che siamo in un campo di tortura per cui quella persona lì ci costringe con la pistola e ci tortura e noi accettiamo le torture cioè accettiamo le situazioni che non ci vanno bene e le accettiamo perché ci sentiamo impotenti ci sentiamo che senza quella persona ci manca l'aria fondamentalmente e allora nel momento in cui tu accetti una cosa sei panato è come andare da un usuraio non cambia assolutamente nulla nel momento in cui tu accetti un'offesa alla tua dignità te la tieni dentro è come andare ad un usuraio e chiedere il primo prestito è uguale non c'è nessuna differenza da lì non uscirai più perché poi non sarei mai in grado di soddisfare questo prestito perché gli interessi aumenteranno sempre e quindi continuerai a chiedere prestiti su prestiti e alla fine ti troverai più di debiti con la corda diciamo a insaponare la corda e invece è dall'inizio che devi agire ecco qua c'è stato un leggero problema di connessone invece è dall'inizio che devi agire non devi aspettare ad insaponare la corda devi agire molto prima quindi questo metodo è veramente efficace quindi ripeto probabilmente il metodo questo metodo ce ne sono anche altri di altri metodi parlerò inserisco uno spot venerdì 14 ottobre Torino alle ore 20.45 presso il centro educatore della provvedenza per il mio seminario gratuito però su iscrizione prenotazione al 333 15 11 703 dicevo questo metodo ce ne sono anche altri prevede che cosa? prevede proprio un lavoro analitico iniziale in cui tiri giù fai il film della tua vita estragnandoti come se fosse una terza persona e ti scrivi tutte le cattiverie adesso uso termine cattiverie ma sono offese mancanze tutto quello che ci vuoi metti nel calderone solo quelle metti in modo tale da stare all'esterno poi ti pidi una bella fotografia di questa persona se non hai la fotografia fai un disegno scrivi il suo nome non lo so te l'immagini cioè qualcosa la fotografia è più semplice perché la guardi e inizi invece adesso ad associarti a entrare proprio dentro la situazione andarti a rivivere tutta la merda che ti ha già somministrato te la vai a rivivere tu guardando la foto davanti avevo un appuntamento e all'ultimo mi ha mi ha mandato a cagare doveva uscire con me e ho uscito con quell'altro doveva fare questo e ha fatto esattamente al contrario mi ha tradito mi ha che ne so sul tradimento immaginati pure lui o lei che sta trombando con un altro se sai che è l'antagonista ti visualizzi pure ti vai a tirare fuori in modo tale che tu hai questa emotività che ti viene fuori va a pagare la parte emotiva perché gli stai somministrando delle emozioni e però d'altra parte va a screditare ancora di più questa persona dalla parte logico nazionale che tenderà a sviluppare meccanismi di orgoglio che tenderà a sviluppare meccanismi di difesa e se tu continui così per un po' vedrai che piano piano il livello di coinvolgimento scenderà e ti accorgerai che il livello di coinvolgimento scenderà quando? quando non sentirai più l'esigenza di dipendenza da parte di questa persona non sentirai più l'esigenza di dover di non poter fare a meno di questa persona non sentirai più l'esigenza della mancanza d'aria se questa persona non c'è non ti verranno più le paranoie non penserai più sarà con un altro sarà con un'altra con chi sarà con chi non sarà e questo significa che il tuo livello di coinvolgimento si è abbassato a quel punto lì come andranno le cose? beh a quel punto lì intanto tu inizierai a stare meglio che poi questa è la cosa fondamentale e avrai più campo d'azione perché se conosci due o tre tecniche di strategie di soluzione oppure anche istintivamente ti verrà da fare la cosa giusta poi la partita sarà una partita comunque giocata da anni pari e sarà una partita che tu vincerai o che quindi conquistano ma anche se la perderai non ti sentirai sconfitto ti sentirai come quello che ha fatto una bella partita non è andata a buon fine ma tu hai giocato comunque bene e ti senti comunque felice perché ti sei arricchito come persona e tutto questo ti porterà a trovare un'altra persona che sicuramente potrà essere la persona giusta perché quando sei coinvolti poi si entri in meccanismi deliranti per cui siamo 7 miliardi sulla terra ma tu trascuri gli altri 6 miliardi 999 mila 999 e consideri solo quello lì o quella lì come se non ce ne fossero altri invece gli altri 6 miliardi 999 mila 999 ci sono e come se ci sono e ce ne sono dissi 6 miliardi eccetera eccetera ce ne saranno n miliardi meglio di quello o di quella diciamo che tu pensavi si tratta solo di essere libero libera di trovare perché altrimenti non li vedi perché purtroppo il meccanismo mentale che se tu sei coinvolto mentalmente con chi ti dà sofferenza non non riuscirai a identificare un oggetto di desiderio può passarti davanti il treno migliore e tu lo perderai per cui questo sgancio non deve durare tanto cioè quando è uno due tre mesi deve tre mesi che vedi che una relazione va a puttani diciamo che soffri da lì deve partire lo sgancio perché è inutile dire no magari tra due anni tre anni quattro anni cambierà e tanto tu come dire ti passi tre quattro anni di merda no cioè nel senso che la vita già è corta di per sé diciamo così se butti via quattro anni se butti via quattro anni per dire quello che è è il tempo che hai preso è buttato nel cesso perché in quattro anni pensa a quanto occasioni ti sarebbe potuto capitare migliori di questa qui che ti sta facendo soffrire infinite e quindi veramente questo metodo se lo usi sistematicamente non dico che facendo una volta funziona ma tu come una goccia diciamo che scava la pietra e più questo ti fa merdate tu le scrivi le scrivi oggi mi ha fatto questo questo e questo domani questo quest'altro e quest'altro te le leggi ti metti la fotografia davanti ti vivi bene alla rabbia ti dedichi la rabbia alla tua parte emotiva fortifichi la tua parte logica perché la tua parte logica se potesse darebbe un puno sul naso cioè non si penserebbe due volte perché per la parte logica due più due fa quattro e solo quattro cioè se tu mi fai girare una volta mi fai girare due e alla terza che te ne vaffa un culo cioè non mi interessa più e invece la parte emotiva che va allenata allo sgancio però la parte logica ha un suo diciamo una sua forza quindi dobbiamo fortificare la parte logica e contemporaneamente dare emozioni alla parte emotiva in modo tale che la parte emotiva poi alla fine dice contanto le emozioni me le dà già lui mi fa vedere già la fotografia mi fa vedere tutto quello che succede per cui perché stare ad agganciarmi su quell'altro quindi questo metodo lo suggerisco provatelo perché per lo sgancio affettivo è davvero ottimale ci vorrà un po' di tempo però devi tenere presente che dentro tre mesi devi essere fuori dalla fogna diciamo così e tutto questo verrà adesso per concludere approfondito venerdì 14 ottobre alle ore 21 a Torino alle ore 20 e 45 a Torino presso il centro educatorio della provvidenza in corso 30 a 13 l'ingresso è libero e gratuito e però devi prenotarti al numero 333 15 11 703 ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato e a Gualtiero che tanto che non sento è dal Brasile che mi fa piacere aver rivisto se non altro nell'iconcina ciao a tutti grazie a tutti